Eccoci, buonasera, oggi un caso ha infiammato la scena politica italiana, lo saprete, se ne parla stamattina, da quando si è evidenziata l'apertura del quotidiano La Stampa con un'ipotesi che un funzionario dell'ambasciata russa a Roma avesse chiesto perentoriamente a un mediatore della Lega, quel capuano che aveva un po' organizzato il viaggio che poi non c'è mai stato di Salvini a Mosca se si sarebbero ritirati dal governo i ministri leghisti, ne è venuto fuori un putiferio, sono intervenuti lo stesso Salvini, gli stessi ministri leghisti, ma che viene da Marte, una cosa di questo genere, il sottosegretario con la delega ai servizi Gabrielli che ha detto non è una cosa uscita dalla nostra intelligence e dall'altra parte Enrico Letta che ha detto ma vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, un putiferio che ovviamente ha investito l'impieno a tutta la scena politica, anche se è vera una cosa che non c'è nesso causale facile tra quella ipotesi della stampa e quello che è accaduto visto che non è stato per il ritiro di ministri leghisti che è andato in crisi il governo Draghi è stato come si sa per l'uscita dall'aula del Senato dei senatori del Movimento 5 Stelle e poi la conseguente lettera di dimissioni del Premier non c'è traccia quindi di Putin almeno in questo, ma ovviamente la domanda di Letta non è così ingenua visto che ci si chiede se non ci sia stato un lavorio e probabilmente anche nell'idea di Letta verso i 5 Stelle da parte del leader russo che dal 24 febbraio è additato giustamente agli occhi del mondo come l'uomo che ha violato le leggi internazionali con l'invasione dell'Ucraina ma insomma voi capite che una vicenda di questo tipo, un'ipotesi di questo tipo, un'accusa, un veleno di questo tipo dipende dai punti di vista non poteva non andare a toccare duramente una campagna elettorale che già è tesissima e nervosissima vedremo che dopo le decisioni presiglieri dal vertice del centro-destra adesso gli occhi di tutti sono puntati sull'altro schieramento principale centro-sinistra per vedere quale sarà letteralmente il perimetro della coalizione che si oppone a quella di centro-destra ci sarà Calenda o non ci sarà? Ci sarà Renzi o non ci sarà? Ci sarà dall'altra parte quello che viene chiamato il cocomero verde di fuori, Bonelli, rosso di dentro, frato gli anni e chi e come sarà la presenza di Di Maio e dei suoi? Tutto questo ancora non ha una risposta definitiva e il tempo ovviamente stringe ci sono anche le questioni che riguardano Conte e il Movimento 5 Stelle ci saranno coloro che sfuggiranno alla tagliola del no a un terzo mandato chi saranno, dove, come, tutto questo ancora non ha risposte c'è invece una certezza che prosegue l'attività sia del Governo sia del Parlamento perché anche la Camera ha dato l'ok allo scostamento di bilancio per permettere che ci siano quei 14 miliardi del nuovo decreto aiuti, aiuti bis mentre da parte del Governo è stato dato anche il via libera per l'assunzione di oltre 90 mila nuovi insegnanti oltre 10 mila anche altre figure tecniche del mondo della scuola quindi assunzioni a tempo indeterminato, tante che sono a disposizione già ovviamente non per chiamata diretta però già dalle prossime settimane vedremo e c'è poi una serie di notizie di cui la più importante è sicuramente la telefonata tra Xi Jinping e Biden, tra il leader cinese e quello americano uno degli argomenti è sicuramente Taiwan, sapete la tensione cresce continuamente l'ipotesi di un viaggio, di una visita della Presidente, della Speaker della Camera Nancy Pelosi è assolutamente contraria a Pechino, in realtà poco favorevole anche Biden è il monito di Xi Jinping, attenzione che a giocare col fuoco si rischia di bruciarsi e poi quello che viene chiamato ormai con quella locuzione inglese cold case per una vicenda che ci riporta al passato, 12 anni fa l'omicidio del sindaco di un paese del Salernitano, il sindaco Vassallo beh, 12 anni dopo la nuova pista presa dagli inquirenti e che abbia scoperto e volesse smascherare un traffico di droga con aderenze molto importanti e insospettabili tutto questo, 30 secondi, i titoli primi veleni sulla campagna elettorale secondo una ricostruzione al quotidiano la stampa basata su documenti di intelligence lo scorso maggio un funzionario di Mosca avrebbe chiesto a un consigliere della Lega vicino a Salvini se si sarebbero dimessi i ministri del Carroccio per far cadere il governo Draghi secca smentita di Salvini solo fake news e ancora di più da parte dei ministri leghisti e peraltro sono ancora al loro posto ma il segretario del PD Letta parla di rivelazioni inquietanti vogliamo davvero sapere se è stato Putin a far cadere Draghi tra le forze politiche intanto si lavora sulle alleanze se nel centro-destra Giorgia Meloni ha ottenuto da Salvini e Berlusconi un ruolo di guida della coalizione e anche la scelta del maggior numero di collegi nell'uninominale più complicato è quanto accade nel centro-sinistra dove non si è ancora sciolto il rebus sulla partecipazione alla coalizione di Calenda e di Renzi 5 Stelle alle prese con il limite di due mandati chiesto da Grillo non ancora però ufficializzato da Conte se ne parlerà la prossima settimana non si ferma però il lavoro di governo e Parlamento lo ha pronunciato lo stesso Premier oggi dal Consiglio arrivano importanti provvedimenti lo sblocco delle assunzioni nella scuola oltre 100.000 tra docenti e personale amministrativo varati i decreti attuativi della riforma cartabia via libera della Camera al scostamento di bilancio 14 miliardi e 300 milioni per permettere il decreto aiuti bis con misure per famiglie e imprese il clima resta atteso tra Stati Uniti e Cina divisi sul futuro di Taiwan duro monito del presidente cinese Xi Jinping a Biden nella telefonata con il presidente americano difenderemo la sovranità e non tolleriamo interferenze chi gioca col fuoco rischia di bruciarsi nessun commento ufficiale dalla Casa Bianca Svolta dopo 12 anni nell'inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo il sindaco di Pollica nel Salernitano ucciso da un killer nel settembre 2010 indagate 9 persone tra cui imprenditori, boss locali un colonnello dei carabinieri e un ex brigadiere dell'arma secondo l'ipotesi degli investigatori Vassallo sarebbe stato ucciso perché aveva scoperto un traffico di droga nella zona con importanti coperturi copertura Ombre russe sulla campagna elettorale verrebbe da dire con un titolo ad effetto e in realtà da questa mattina se ne parla tantissimo da quando il quotidiano La Stampa in apertura ha messo un'ipotesi che un funzionario russo avesse in qualche modo evocato la possibilità di dimissioni dei ministri della Lega parlando con quel capuano che poi fra l'altro forse neanche iscritto è alla Lega ma che è quel faccendiere, mediatore che aveva cercato di organizzare il famoso viaggio mai poi avvenuto di Salvini a Mosca durante i primi mesi di guerra e quello che è successo è che da questa mattina non si parla quasi d'altro con Salvini costretto a dire fake news con il sottosegretario di Draghi con la Delegal Intelligence che è poi l'ex capo della polizia Gabrielli che ha detto non è cosa che è uscita dai nostri servizi con i tre ministri della Lega che hanno detto qualcuno ha preso un colpo di sole noi siamo ancora qui al nostro posto e non si è mai parlato di nostre dimissioni e con Letta però dall'altra parte che dice adesso a questo punto vogliamo sapere testuale se è stato il presidente russo Putin a far cadere Draghi c'è un punto interrogativo a smussare l'idea che si tratti di una pretesa ma il caso esplode comunque i ministri leghisti sono intenzionati a dare le dimissioni dal governo Draghi avrebbe chiesto un importante funzionario dell'ambasciata russa a Roma Oleg Kostyukov al consigliere per le relazioni internazionali di Matteo Salvini Antonio Capuano a fine maggio nei giorni in cui Lega e 5 Stelle si mostravano stili a nuovi invi di armi all'Ucraina e in cui Salvini grazie agli stessi personaggi Capuano e Kostyukov si proponeva come mediatore per una missione di pace a Mosca è la stampa a pubblicare in prima pagina la notizia di questo insidioso interessamento tracce di una serie di conversazioni nei giorni 27 e 28 maggio che dimostrano secondo documenti di intelligence scrive il quotidiano l'interesse russa una destabilizzazione del governo italiano le cose non sono poi andate esattamente così al governo Draghi e si mancata la fiducia due mesi dopo ma per una scelta di conte che ha creato l'occasione per la Lega e Forza Italia ma la questione dei rapporti fra Lega e Russia resta tutta e non confinata solo al passato riattualizzata dal caso di quella trasferta ma è realizzata e tuttavia imbarazzante per via del biglietto per Mosca anticipato proprio da Kostyukov a Capuano come rivelato dallo stesso Capuano la campagna elettorale si infiamma su questo fin dal mattino siamo seri mi risulta che a breve arriverà una smentita istituzionale quindi avrete vissuto tre ore di fantasy come spesso purtroppo capita quindi ho fatto tutte le verifiche del caso a livello istituzionale verrà smentito tutto quello che è stato pubblicato il governo è caduto per scelta di 5 stelle punto no ragazzi arriveranno smentite a livello istituzionale a livello a livello siccome si parla dei servizi italiani non risulta nulla di simile e noi chiediamo conto chiediamo la verità vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi l'hanno fatto su un mandato l'hanno fatto su un mandato di una potenza straniera che oggi è una potenza che aggredisce e rispetto alla quale noi non possiamo avere buoni rapporti è mattina stesso posto stessa ora assemblea col diretti a Roma stretto giro arriva come da allusione di Salvini la nota del sottosegretario con delega ai servizi Franco Gabrielli l'attribuzione all'intelligenza nazionale delle asserite interlocuzioni fra Capuana e l'ambasciata della Russia per far cadere il governo Draghi è priva di ogni fondamento scrive ma il PD sottolinea subito intelligence italiana e attribuzione non è una vera smentita dichiarano parlamentari PD e Italia Viva che chiedono a Salvini di riferire al Copasi il comitato parlamentare sui servizi nel pomeriggio anche i ministri leghisti smentiscono qualcuno ha preso un colpo di sole di missioni chieste dai russi forse su Marte scrivono Giorgetti Stefani e Garavaglia l'ambasciata russa conferma solo la storia del biglietto aereo per Mosca per Salvini il presidente del Copasir Urso Fratelli d'Italia prova a chiudere del caso il Copasir si è già occupato rifare audizioni a camere sciolte sarebbe a rischio di strumentalizzazioni la linea rivelatrice di più di un imbarazzo Salvini è un alleato Giorgia Meloni alla direzione del partito coglie la palla al balzo per ribadire la collocazione atlantista di Fratelli d'Italia noi saremo affidabili scandisce smarcando siccome del resto è stata attenta a fare in Parlamento mentre Tagliani per Forza Italia difende la Lega Di Maio invece fa fibrillare i 5 Stelle chiede spiegazioni a Salvini ma aggiunge che le ricostruzioni della stampa fanno il paio con il sostegno dell'ambasciatore russo Razov alla bozza di risoluzione contro l'invio di armi presentata da Conte Corbellerie replica l'interessato il sottoscritto non è andato in nessuna ambasciata russa non ha avuto nessun contatto con esponenti del governo russo eccetera perché noi queste cose non le facciamo noi siamo è una brutta vicenda e a questo punto non non sono tanto le parole del quotidiano la stampa sono le parole di Enrico Letta del segretario del Partito Democratico che tracciano il solco quando Letta dice vogliamo sapere se Putin ha fatto cadere il governo Draghi da chi chiede risposta qual è il sospetto di Letta perché appunto il governo Draghi cadde cominciò a cadere quando Draghi diede le dimissioni poche ore dopo l'uscita dal Senato per non votare la fiducia al governo sul decreto aiuto da parte dei senatori del Movimento 5 Stelle è lì che ha agito Putin o dove altri ecco sarebbe chiaro sarebbe importante chiarire innanzitutto chi accusa quando e perché Letta perché non stiamo parlando di scherzi quando si parla del presidente russo che il signore che il 24 di febbraio ha ordinato l'invasione della Ucraina e si parla del fatto che avrebbe voluto anche far cadere il governo Draghi non si accusa di qualche manchevolezza si accusa di qualcosa di molto grave e di permeabilità di due forze politiche importanti quelle peraltro del primo governo di questa legislatura a quelli che possono essere suggerimenti o addirittura ordini di Mosca non è poco bisogna saperlo perché inizia una campagna elettorale che tra meno di due mesi ci porta al voto e che è già avvelenata di suo oltre che incerta su alcune prospettive i cantieri delle alleanze rimangono tutti aperti tanto è stato fatto non tutto in quello del centrodestra con l'accordo chiuso la scorsa notte nel vertice alla Camera alla fine Salvini e Berlusconi hanno fatto un passo di lato accettando la richiesta di Giorgia Meloni come in passato esprimerà il nome del presidente del consiglio chi prende un voto più degli altri da capire se nel simbolo ci sarà il nome della Meloni Premier Giorgia ha tutte le carte in regola per guidare un governo di alto profilo il riconoscimento arrivato da Berlusconi convinto alla fine a dar spazio alla leader di Fratelli dopo aver sostenuto nei giorni scorsi che era meglio invece far decidere ai parlamentari appena eletti ma aperto rimane il cantiere anche da questa parte perché è tutta da definire l'assegnazione dei candidati nei collegi se la ripartizione è stata concordata rimane infatti da chiarire chi andrà dove non un dettaglio perché ci sono collegi cosiddetti blindati altri molto meno si rivedranno i partiti martedì prossimo è stato fissato un nuovo appuntamento con i centristi del centrodestra che chiedono più spazio soddisfatta la Meloni che oggi in direzione ha lanciato la sfida sono d'accordo con Enrico Letta la scelta è tra noi e il PD chiuso nella Lega sembra invece il caso Giorgetti alcuni retroscena ipotizzavano una sua candidatura alla guida della regione Lombardia al posto dell'uscente Fontana non esiste la smentita categorica in pieno allestimento è il cantiere del centro-sinistra dove a sentire tutti i protagonisti da Letta a Calenda Renzi come tutto il fronte della sinistra non si sa bene nemmeno chi ne farà parte indecisissimo Carlo Calenda leader di azione con Letta il rapporto è buono i canali aperti ma Calenda sta aspettando come l'oracolo il risponso di un sondaggio per capire se gli conviene allearsi o rimanere fuori dai due poli tirato per la giacca da chi in azione insiste per l'accordo con il centro-sinistra e chi in particolare gli ex azzurri appena arrivati preferirebbe invece stare fuori dagli schieramenti prima decidiamo le cose da fare poi vediamo le alleanze risponde invece Matteo Renzi di prima mattina la possibilità di riavviare un dialogo messo in campo dal segretario PD Letta anche qui i dubbi sono tutti legati a chi sarà della partita il dialogo è possibile solo se il PD si schiera per i più deboli ma è impossibile realizzare programmi con Calenda Renzi e Di Maio la dichiarazione all'ora di pranzo di Giuseppe Conte capo politico dei 5 Stelle nella stessa intervista al sito di informazione TPI il leader del movimento conferma che il discorso sul limite ai due mandati rimane aperto smettendo l'ultimatum di Grillo pronto a lasciare in caso di taglio al limite Conte che avverte Di Battista se torna troverà un nuovo corso dovrà accettare nuove regole statutarie ma Conte non ha ipotizzato alcun accordo con il PD interviene a metà pomeriggio con una nota il movimento ha invece detto che se si passa dall'agenda Draghi a una sociale ed ecologica allora il confronto potrebbe ripartire la precisazione disponibilità al momento rimasta senza replica mentre un invito ad andare tutti insieme ma senza i 5 stelle lo rilancia il sindaco di Milano Sala sponsor del progetto civico guidato da Di Maio ma in realtà visto che si parla tanto del governo Draghi chi l'ha fatto cadere perché il governo continua a lavorare oggi è una giornata importante non era mai accaduto che un governo dimissionario mettesse sul tavolo in piena estate tanti soldi e tanti provvedimenti ma a parole di Draghi ieri alle parti sociali la situazione è grave l'esecutivo non va in ferie il paese va messo in sicurezza prima del voto del prossimo 25 settembre nell'ottica di questo necessario cambio di marcia arriva oggi dal Consiglio dei Ministri il via libera alla circolare che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2022-2023 di 94.130 insegnanti e 10.116 tra personale tecnico ed amministrativo a copertura si legge nel comunicato di Palazzo Chigi di posti effettivamente disponibili l'esecutivo procede con gli impegni presi in linea con il mandato avuto dal presidente Mattarella e Draghi si muove come se fosse un premier nel pieno delle sue funzioni per interventi ovviamente non di lungo periodo a quello ci penserà il nuovo governo che avrà tempi strettissimi anche per approvare la manovra economica del resto in Italia non si è mai votato in autunno in piena sessione di bilancio il Consiglio dei Ministri approva anche due decreti attuativi della riforma cartavia del processo civile per semplificare e velocizzare i processi garantendo altra novità più tutele per minori e donne vittime di violenza l'obiettivo che si è dato l'esecutivo è quello di abbattere del 40% la durata dei procedimenti civili attraverso la riforma e digitalizzazione del processo tutti interventi che rientrano tra gli impegni presi dal governo per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza da cui dipendono le successive tranche di finanziamenti europei il Consiglio dei Ministri ha inoltre autorizzato 11 progetti per impianti eolici in Puglia e Basilicata la decisione in linea con la strategia dell'esecutivo a sostegno della diversificazione delle fonti energetiche insomma il governo procede rispettando la richiesta di Mattarella di andare avanti ma a Palazzo Chigi sanno tutti che si tratta di decisioni importanti per un esecutivo che si muove solo per gli affari correnti dopo quello del Senato giunto ieri oggi è arrivato anche l'ok della Camera la risoluzione che autorizza l'esecutivo ad uno scostamento per l'assestamento di bilancio in pratica è il passaggio che libera i 14 miliardi e 300 milioni necessari a coprire i provvedimenti che saranno contenuti nel decreto aiuti bis extra deficit ma senza produrre nuovo deficit visto che le maggiori entrate produrranno un indebitamento inferiore rispetto alle previsioni del governo proprio di quei 14,3 miliardi destinati a finanziare le misure per contenere gli effetti dell'inflazione passaggio non banale quello odierno dal momento che il documento della maggioranza è stato approvato con 419 voti a favore a fronte di un solo contrario e due astenuti semaforo verde infatti è arrivato anche dall'opposizione di Fratelli d'Italia segno che l'obiettivo della massima condivisione ricercato da Draghi e che ben si attaglia all'azione di un governo in carica per i soli affari correnti per il momento può dirsi centrato ora l'esecutivo potrà dunque dare sostanza ad un provvedimento che dovrebbe vedere la luce già la prossima settimana e i cui possibili contenuti sono stati condivisi e dibattuti nel corso degli incontri che Draghi ha avuto nei giorni scorsi con le parti sociali le maggiori novità sono giunte dal faccia a faccia di ieri con i sindacati accanto ai punti fermi rappresentati dalla proroga degli sconti in bolletta del taglio delle accise sui carburanti e dei crediti di imposta a favore delle imprese infatti la strada che intende intraprendere il governo è quella di un aumento fino a fine anno della decontribuzione a favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro lordi in modo da arricchire il loro netto in busta paga l'ipotesi di lavoro sarebbe quella della riduzione del cuneo fiscale di un ulteriore punto percentuale niente rinnovo del bonus da 200 euro quindi che verrà invece erogato a chi non lo aveva percepito in precedenza precari e stagionali per i pensionati invece ci sarà un anticipo dell'adeguamento degli assegni all'inflazione previsto per gennaio 2023 anticipo che potrebbe essere di tre mesi e non di sei come inizialmente ipotizzato il tavolo ha affermato il ministro del lavoro Orlando è ancora aperto il punto fermo ha aggiunto è che ci sarà un taglio del cuneo di carattere strutturale e un anticipo della rivalutazione delle pensioni in un mondo che è al centro di tensioni che ben sappiamo e del resto abbiamo parlato di striscio di quel 24 febbraio della guerra iniziata da Putin allora con l'invasione dell'Ungheria dell'Ucraina scusate il vero fatto di oggi porta al rapporto diretto tra le altre due superpotenze tra gli Stati Uniti e la Cina c'è stato il colloquio telefonico che era già preventivato tra Xi Jinping e Biden ma il capo cinese e il presidente americano hanno parlato di qualcosa che ha portato i due paesi al limite di una rottura il caso Taiwan Chi gioca con il fuoco alla fine si brucia parola di Xi Jinping presidente cinese che lo avrebbe detto riferendosi alla questione Taiwan a Joe Biden nella quinta telefonata tra i due da quando Biden è divenuto presidente degli Stati Uniti i primi comunicati diffusi dai media cinesi dopo due ore e un quarto di chiacchierata riferivano di scambi approfonditi tra i due leader di comunicazioni su relazioni e interessi reciproci ma su Taiwan in realtà Xi non ha concesso nulla al suo omologo la Cina come riporta il quotidiano Global Times proteggerà la sua sovranità la questione Taiwan è chiara quella è terra che appartiene ad un'unica Cina quindi no al separatismo di Taipei no ad interferenze straniere e come se non bastasse nessun riferimento alla paventata visita sull'isola ribelle di Nancy Pelosi speaker democratica della Camera americana una missione che Pechino vede come un affronto insopportabile sul destino dell'isola che vuole governarsi da sé Xi aggiunge la posizione del governo è coerente con la volontà di un miliardo e quattrocento milioni di cinesi che vogliono salvaguardare sovranità e integrità territoriale d'altronde dichiara il portavoce del ministero della difesa Wu Qian la riunificazione di Taiwan è la missione sacra dell'esercito di liberazione popolare una risposta da parte americana la riportano sempre fonti cinesi per Joe Biden il principio cosiddetto dell'unica Cina non è destinato a cambiare l'amministrazione americana avrebbe aggiunto Biden non sostiene l'indipendenza di Taiwan nonostante il congresso abbia di recente approvato una legge che autorizza la difesa americana a mantenere il sostegno militare statunitense al governo di Taipei nell'agenda del meeting telefonico tra i due presidenti c'erano anche altri argomenti come la guerra russa in Ucraina che Pechino non ha mai condannato il clima ai costi energetici sino alla concorrenza commerciale tra le due superpotenze mondiali l'obiettivo dell'incontro di oggi era per entrambi i paesi quello di evitare che gli attriti recenti andassero fuori controllo dalle future mosse americane delle prossime settimane si capirà se i colloqui siano serviti davvero a qualche cosa fu ucciso 12 anni fa il sindaco di Pollica nel salernitano Vassallo si è parlato tanto di di quell'omicidio si è parlato del suo tentativo di salvaguardare la legalità in una zona in cui qualcuno invece faceva tutt'altro oggi però una nuova inchiesta porta a risvolti inattesi e clamorosi era pronto a denunciare il traffico di droga che gravitava intorno al porto del suo paese un piccolo centro del Cilento in provincia di Salerno per questo Angelo Vassallo sindaco di Pollica sarebbe stato ucciso inizialmente alle indagini sulla sua morte condotte su false piste e su soggetti estranei ai fatti a 12 anni di distanza è questa la svolta importante nelle indagini sulla morte di Vassallo lo chiamavano il sindaco pescatore considerato uomo simbolo del riscatto del suo territorio ucciso con nove colpi di proietti del 5 settembre del 2010 in una strada di campagna da Ciaroli frazione del comune di Pollica di cui Vassallo era primo cittadino la procura di Salerno ha ordinato ai carabinieri del rossa di effettuare le perquisizioni a carico di nove indagati a vario titolo per concorsi in omicidi associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tra di loro c'è Fabio Cagnazzo tenente colonnello dei carabinieri l'imprenditore Giuseppe Cipriano è un brigadiere dell'arma in congedo Lazzaro Cioffi arrestato 4 anni fa e poi è condannato lo scorso maggio in primo grado a 15 anni di carcere per concorso esterno in traffico internazionale di droga Cagnazzo era capo del nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna di cui faceva parte anche Cioffi all'epoca dei fatti era in vacanza ad Acciaroli di sua iniziativa senza alcuna delega dei magistrati aveva cominciato a indagare e avrebbe sequestrato un video di sorveglianza di un negozio con affaccio sul porto di Acciaroli anche di questo ha parlato oggi il capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli dei depistaggi seguiti alla morte di Vassallo dal falso movente passionale alle accuse che avevano portato a iscrivere il brasiliano Bruno Umberto Damiani nel registro degli indagati per due volte Damiani condannato per spaccio di droga ed essorzione fu accusato dell'omicidio del sindaco di Pollica e per due volte la sua posizione è stata archiviata ora la svolta attesa per tutto questo tempo la pista legata agli interessi dei clan criminali sullo spaccio di droga nel porto di Acciaroli come movente dell'assassinio del sindaco che nella nuova ipotesi investigativa si opponeva a quei traffici e sarebbe stato fermato prima che potesse parlarne con i magistrati c'è da parlare dei guasti del cambiamento climatico sull'estate che si riverberano su fenomeni diversi come vediamo da dieci giorni il carso brucia un susseguirsi di focolai che dal territorio sloveno passano a quello italiano e viceversa spinti dal vento dal terreno arido e dalla siccità che rendono la vegetazione ancora più infiammabile ma ci sono anche evidenze di inneschi dolosi secondo il sindaco di Gorizia e di nuovo questa è la zona interessata dal peggioramento delle ultime ore che ha fatto evacuare tre frazioni tra cui l'intero abitato di San Michele gli incendi attivi nella regione sono quattro oltre a quello di San Michele c'è il rogo sul Gran Monte in provincia di Udine a Frisanco Pordenone e a Resia dove è in corso un'attività di sorveglianza si spera anche nell'arrivo della pioggia che però più a ovest dove è passata ha fatto danni gravi in Val Camonica provincia di Brescia un nubifragio la notte scorsa cinque anni fa avevano provocato un'alluvione con cinque vittime solo il caso ha evitato che questa volta non ci fossero feriti dalla montagna è scesa una colata di fango massi e detriti che ha investito i piccoli centri di Niardo e Braone gli abitanti hanno riferito di un voato seguito da un tremito simile a un terremoto e infatti si sospetta che un distacco più a monte abbia ostruito i torrenti facendoli esondare travolta la ferrovia e la statale riaperta solo in mattinata e in questa estate anomala dal punto di vista climatico il caldo i livelli di batteri che hanno costretto al divieto di bannazione in alcune notissime località della riviera romagnola le analisi dell'Agenzia regionale per l'ambiente hanno evidenziato una presenza oltre i livelli di guardia di Escherichia Coli in 28 punti di campionamento concentrati soprattutto nel riminese sei di questi sono tornati entro i limiti in serata anche se il comune di Rimini che ha condotto analisi autonome con testa e dati ARPA l'Agenzia spiega quello che avviene nell'Adriatico come la somma di acque troppo calde ventilazione assente siccità e scarso ricambio d'acqua proveniente dai fiumi oggi sono stati eseguiti nuovi prelievi sperando che i limiti rientrino nella norma e si possa salvare dai divieti il fine settimana è doveroso parlare di un grave lutto per la cultura italiana se ne è andato all'età di 92 anni Pietro Citati scrittore critico letterario grande grandissimo interprete del genere biografico con la storia della vita di Talostoi vinse il premio strega e con la biografia di Goethe il premio Viareggio laureato alla normale di Pisa da giovane come si dice Dava del Tu a Gadda a Fenoglio a Bassani l'attrazione per la grande letteratura e le sue storie i suoi personaggi e i suoi romanzieri ma amava definirsi più critico che scrittore e le sue recensioni anche puntute hanno segnato la storia fino a poco tempo fa della critica letteraria dalle pagine del giorno di Italo Pietra al Corriere della Sera alla Repubblica Dopo di noi in onda gli ospiti di Concita De Gregorio e di Davide Parenzo sono Paolo Mieli Peter Gomez Guido Crosetto Maria Elena Boschi Agnese Pine Massimiliano Fedriga Pietro Senaldi Federico Rampini Walter Ricciardi ci fermiamo Tutte in spolvero le borse vediamo che Milano ha chiuso con un più 2,10% in questo momento a Wall Street il Dow Jones corregna l'1,06% e il Nasdaq lo 0,78% è tutto Parenzo De Gregorio ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti